Nicola Tessera Revisore Ho detto che il TED è parola, ma il TED è anche commistione di linguaggi. Il TED vuole essere anche territorio, vuole essere radice, ma vuole essere anche slancio, proiezione verso altro da sé. Per questo portiamo qui un format internazionale e oltre alla forza della parola, portiamo la forza della musica. Sono qui per questo con noi due ragazzi del nostro territorio, Emanuele Blandamura e Francesca Camardo, i Noir, li accogliamo con un applauso. Ci presentano il loro singolo On Our Bed, tra l'altro disponibile su tutte le piattaforme. Prego ragazzi. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Allora... Come a tutti. ...